Quanto? 48 euro Vado a prendere i soldi al banco? Allora, Marcella Pella, più ci si apisce Ma che ha fatto? Di tutto! Voi dovete tutto a noi italiani! Che se a Colombo quel giorno noi si impallavamo a navigatori Voi stavate ancora a cacciare cinghiali che le c'erbottane! Sono il fratello del mio brother! Please, come in! Eh, cammini, se a me apri, cammini, se no non entri! Siamo uguali! Spicciche! Fatta abbracciare! Figlia, fermo lì! Who's this guy? Ecco, ci mancava l'avatar! Ma non sei! Shhh! Ma la piano! Era un uomo bellissimo! Era! Ha schiacciato! Ripetemi, sir! Buccatini alla matriciana! Buccatini alla matriciana? Sì, vabbè! Yes, here we can! Ah, Marcella, ma che c'è? Non basi i Minions! Ma che? E non so che! Tu sto chiedendo a te che è? Fatta abbracciare! Sì, vabbè, ma tanto... Sì, i soldi non fanno la felicità! Appunto! Figure di libidi! Ma che te la dico a fare a te certe cose? Ma fatti i tagge! Oh, che bravo che sei! Eh, lo so! Cos'è, ti piace il barbaro? Mi è partito l'ormone! A un certo punto della festa la toga va tolta! Oh, la sei cercata! Davanti a una faraona! Non mica posso fare la figura del facciano! And remember! After book it in... Little shoe! E che cos'è? La scarpetta! O vedi che non sei inglese!